L'ultimo nome che circola proprio in queste ore è Filippo Baldirossi, Trento. C'è qualche possibilità? Questo nome è sul taccuino? Lo state sondando? Avete sentito? Oppure non c'è nulla? Allora noi non nascondo che ci siamo avvicinate, abbiamo tentato con Chris Barnes di fare un'operazione. La possibilità di prendere un giocatore italiano ci permetterebbe due aspetti. Il primo è che noi siamo partiti con l'idea di costruire un nucleo di giocatori italiani. E' chiaro che l'inserimento in un giocatore italiano ci permetterebbe sia la possibilità di inserire poi più avanti un giocatore americano, magari aspettando poi la primavera, e sia anche il fatto che noi attualmente siamo comunque la prima squadra in classifica su quello che è la premierità del giocatore italiano e anche questo è un aspetto da non tenere conto in un sistema aziendale come stiamo provando a costruire in casa Virtus. Grazie